Eccoci qua Maurizio Poli, Your Solution. Data atto di Costituzione 7-12-2007, data di iscrizione 17-12-2007, quindi sono passati dieci anni, quest'anno è il 17 dicembre 2017, dalla Costituzione di Your Solution. I grazie sono i soci di Your Solution, grazie all'amministratore di Your Solution, Giuseppina Viondelli, grazie ai nostri partner che ci danno i servizi, che ci danno l'opportunità di poter servire meglio i nostri clienti. Il nostro mantra rimarrà anche per i prossimi anni, il risparmio di oggi è il pane di domani. La nostra vocazione è nel proteggere il denaro degli imprenditori che con sacrificio l'hanno costruito, proteggere le loro famiglie, proteggere il futuro dei loro figli. Questo è il nostro compito, questa è la nostra mission di Your Solution, consulenza aziendale, protezione del patrimonio e tutela patrimoniale. Questo facciamo da dieci anni, questo faremo negli anni a venire, se Dio vorrà. Noi ci siamo a fianco degli imprenditori e a fianco delle imprese. Your Solution, auguro a tutti un buon Natale e uno splendido 2018. Grazie a tutti!